ciao a tutti bentornati in un nuovo video oggi un video un po natalizio sono in compagnia anche di maya che è di dietro e di kuma che sta facendo la pennichella perché ho deciso di effettuare un test natalizio smart ho comprato queste luci costosissime su amazon che teoricamente dovrebbero essere tipo le luci rgb più smart per l'albero di natale e da quattro anni che vivo da solo e da quattro anni che non faccio l'albero di natale maya voleva fare l'albero di natale io non ce l'avevo in questa casa e però allora ho deciso di farlo alla maniera di blink queste luci costano circa 130 140 euro più o meno e teoricamente la cosa bella è che possono essere controllate tramite smartphone e personalizzate al 100 per cento quindi direi di non perdere tanto altro tempo e montare subito l'albero ho appena scoperto di essere stato scammato e non è arrivato l'albero di natale che ho comprato però non importa il video deve proseguire quindi facciamo molto velocemente a montarlo questo è l'albero che ho ordinato io come potete vedere acquistato il 2 dicembre era l'unico che arrivava con amazon prime ma è arrivato questo un albero spilungone è stretto e alto cioè è orribile è veramente bruttissimo allora la mia ipotesi era quella di togliere intanto la parte superiore per dargli una forma cioè anche se viene più piccolino però almeno una forma un po più umana anche se un albero dove avere le pigne la neve dove avere tutte le cose essere bello largo e invece niente comunque visto che non bastava lo scam la fotocamera ha deciso anche di non registrare l'unboxing delle luci vi ricordo queste sono delle luci della twinkly che ho comprato non sono sponsorizzate ve lo ricordo è e costano un bordello di soldi 140 euro per il kit da 250 luci vi faccio vedere cosa c'è all'interno della confezione libretto che ci dice come scaricare l'applicazione alimentatore e poi ci sono le luci che sono 250 divise in due bobine tra virgolette da 125 luna poi c'è anche il controller che ci dovrebbe permettere di modificare l'illuminazione anche senza applicazione adesso lo scopriamo ok si è acceso allora l'albero è montato fa abbastanza schifo anche con le luci ma purtroppo è colpa dell'albero non tanto delle luci adesso andiamo sull'app store e proviamo a scaricare l'applicazione che dovrebbe essere proprio twinkly allora applicazione scaricata vediamo come si presenta dobbiamo registrarci per forza e va bene registriamoci questa roba qua non mi piace siamo entrati si è aperta l'applicazione e adesso sta facendo cerco dispositivi twinkly vediamo un attimo se trova qualcosa ci ha messo circa 30 secondi l'ha trovato generazione 1 2 questo qua mi sembra generazione 2 maya devi tenere premuto il tasto del coso si trovi prossima età del telefono dai siamo abbastanza vicini comunque è lì nessun dispositivo ho trovato provo a rifarlo da vicino ok incredibilmente al terzo tentativo è andato mi dice di connettermi alla rete wifi domestica oppure connettiti direttamente connettiamolo alla rete domestica perché così possiamo connetterlo teoricamente anche con alexa contro ogni aspettativa ce l'ha fatta è ora di installarlo usa le luci per decorare il tuo spazio oggetto va bene una volta fatto ti suggeriamo di mappare le tue luci per ottenere effetti più precisi è veramente facile mappa le luci mi chiede calibrazione 2d o 3d direi 3d i colori di led ti guideranno per ottenere il risultato migliore costruisci il tuo layout mappando da angoli differenti cerchi di inquadrare i led rossi arancioni e gialli ancora da mappare i led diventeranno verdi appena saranno mappati ok ah perfetto allora ha fatto questo lato aggiungi quindi io adesso ruoto e faccio questo lato qui ok teoricamente abbiamo finito la mappatura adesso l'albero è praticamente tutto verde ce n'è una giallognola ma va bene sono soddisfatto ricostruzione 3d in cloud in corso allora dopo un'ulteriore mappatura ha più o meno calibrato l'albero non sembra perfetto ma va bene vediamo un attimo cosa viene fuori vediamo se funziona oh figo però se solo ci fosse una punta se solo ci fosse una punta e l'albero avesse un senso sì sarebbe figo proviamo a righe rosso e bianco vediamo dovrebbe venire tipo a bandiera italiana che scorre in verticale wow quanto patriottismo più o meno non è molto preciso ma non penso sia colpa delle luci ma più colpa mia di come le ho messe l'albero piccolo eccetera piccolo salto temporale passato un giorno dal unboxing abbiamo capito un po' meglio come funziona l'applicazione siamo andati a effettuare dei test con tutti i vari effetti la mappatura 2d o 3d l'abbiamo sincronizzato con alexa quindi si può accendere e spegnere si può anche programmare ovviamente e l'abbiamo posizionato sopra un po' di scatole come potete vedere dietro ce ne sono tantissime mi dispiace anche per il video però sto per fare il trasloco quindi gli scatoloni ci sono e l'abbiamo messo appunto qua sopra in modo che quando fermiamo dal divano e utilizziamo la fotocamera abbiamo l'albero di sfondo e con gli alert di twitch si accende vi faccio vedere velocemente la mappatura 2d che è molto più veloce rispetto a quella 3d che abbiamo fatto ieri facciamo mappa le luci 2d e basta inquadrare l'albero e tenerlo fermo per un attimo fa lampeggiare le luci di vari colori effetto la mappatura solo da un lato in questo caso in realtà è molto meglio la mappatura 2d perché abbiamo un effetto più preciso dal lato frontale da quello che si vede diciamo tutti i giorni è più facile da mappare e vengono meglio anche gli effetti adesso andiamo a applicarne un altro questo qui che ieri si vedeva un po' peggio funziona molto meglio le righe sono più definite perché appunto avendo fatto la mappatura 2d prende solo un lato e adesso funziona anche lo switch molto veloce degli effetti vi faccio rivedere la bandiera italiana non è precisissima ma meglio di ieri possiamo applicare molti tipi di effetti veramente carina come cosa l'albero non è niente di che però con queste luci diciamo che prende un che più carino andiamo a mettere l'effetto rainbow molto 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 bello ti ho dato fastidio perdonami scusami non parlo più forte e come vi ho fatto vedere ieri è anche possibile creare degli effetti personalizzati adesso si è spento e io posso andare a disegnare direttamente sull'albero quello che voglio che succeda o quali luci voglio che vengano accese eccolo qui e io lo sto disegnando in tempo reale sull'albero e automaticamente si accende lì mettiamo gialle mettiamo bianche così e come potete vedere si illumina direttamente veramente carina come cosa quando viene applicato l'effetto ci mette un po' a caricarlo quei 3, 4, 5 secondi ma poi rimane tranquillamente molto molto carino facciamo una conclusione vale la pena spendere tutti questi soldi per delle luci dell'albero di Natale? sì e no dipende se vi piace personalizzare il vostro albero magari andare comunque a metterci qualche decorazione volete sincronizzarlo con la vostra postazione visto che funziona sincronizzato con Razer Synapse volete avere una cosa diversa dal solito? personalmente sì è una cosa fondamentale? direi assolutamente no anche per questo video è tutto fatemi sapere voi che cosa ne pensate se vi è piaciuta l'idea se conoscevate già queste luci le ho scoperte in realtà durante il Black Friday scorrendo un attimo tra le varie offerte e ho trovato queste luci ci sono anche varie versioni con fino a 600 led se non sbaglio e costano molto di più costano tipo il doppio triplo ovviamente in base al numero di led ragazzi in descrizione ovviamente come al solito trovate tutti i vari link per i miei social trovate il link per le luci se siete interessati vi ricordo che è disponibile BlinkMyPC e anche il sito con il merchandise non questo che è una maglietta che non c'entra niente e direi che da Blink è tutto e ci vediamo con il prossimo video ciao ciao vi ricordo che è disponibile BlinkMyPC il sito perfetto per essere sicuri di realizzare il proprio nuovo computer al meglio spendendo il meno possibile dove è possibile realizzare configurazioni personalizzate oppure scegliere tra quelle proposte in base al prezzo desiderato ovviamente non mancano le offerte in tempo reale e il mio merchandise trovate il link in descrizione grazie a tutti